Devo dire che questa donazione è importante oltre per il valore in sé per sé delle attrezzature che hanno donato, anche per l'affetto che nutre un'associazione verso l'ospedale. Abbiamo creato uno spazio che prima non c'era, che è di supporto alle attività chirurgiche pediatriche intensive. Ogni qualvolta un bambino viene sottoposto ad un intervento chirurgico e le condizioni sono abbastanza complesse, verrà assistito qui insieme all'animatore, al chirurgo pediatri e ai pediatri questo passaggio per poi ritornare in pediatria. Esiste da qualche anno da quando è partita la chirurgia pediatrica, per cui tratteniamo tutti quei pazienti che hanno bisogno di attenzioni particolari e questo spazio è uno spazio dedicato a loro. La dotazione non è particolare se non per quanto riguarda i sensori che sono ovviamente adattati, sono più piccoli e quindi sono di fascia pediatrica se non addirittura neonatale. Per quanto riguarda la tecnologia è la stessa, un ventilatore è in grado di ventilare da 5 millilitri a 750, un monitor è in grado di rilevare tutti i parametri ovviamente con i trasduttori pediatrici. Sì, infatti questo box è proprio più grande perché un bambino che dovesse trovarsi in coma probabilmente non si accorgerebbe forse neanche della presenza dei genitori, ma un bambino che non dovesse essere con un livello di coma anche indotto farmacologicamente deve avere un genitore vicino il più possibile perché lui è il miglior stimolo che può ovviamente avere il bambino da un punto di vista affettivo, psicologico e quant'altro. Colgo l'occasione per ringraziare l'associazione Gianfranco Lupo e le autorità sanitarie che hanno dato questa possibilità. Diciamo, questo rappresenta come una sorta non solo del ricordo personale del bambino ma come dire una sorta di monito futuro perché intanto noi crediamo che la sanità pubblica sia il baluardo a difesa della salute del cittadino e soprattutto dei bambini e riteniamo che un bambino in grande difficoltà ha bisogno di aiuto da parte della struttura pubblica ovviamente vedete che sono emozionato ma ripeto questo è un monito a che al centro della medicina ci sia sempre l'uomo che è lo scopo diciamo e che tutti i protocolli, tutte le varie situazioni, la cosiddetta medicina difensiva lasciano il tempo che trovano, al centro di tutto ci deve essere sempre l'uomo. Sì, senz'altro insomma siamo molto felici di donare quindi ogni volta che c'è una inaugurazione non possiamo che essere grati a tante persone soprattutto al popolo lucano che crede nella nostra associazione. Pensate che sono passate ben 12 anni, siamo alla soglia del milione di euro che festeggeremo quest'anno dato alla sanità pubblica insomma, quindi è un bel traguardo e grazie al cuore dei lucani. A volte insomma ecco si parla solo di eventi negativi ma c'è tanto bene diffuso in mezzo alla gente quindi è giusto che emerga. Vorrei sottolineare in un momento difficile di crisi economica abbiamo raggiunto l'apice questo che significa che la trasparenza delle azioni premia.